Un rosone cinto dalle foglie di acanto, simbolo della risurrezione, come ringraziamento umano da parte del popolo abruzzese. E questo il premio rinascita conferito al generale Claudio Graziano nell'ambito di un consiglio regionale solenne nell'anno celebrativo del 150esimo anniversario della Fondazione del Corpo degli Alpini, che tanto fu di supporto agli abruzzesi nei giorni del sisma. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Sant'Angelo, ha proposto questo premio che è stato accolto da tutto il Consiglio. In maniera unanime ed entusiasta è stata accolta la mia proposta fatta al Consiglio regionale di conferire il premio rinascita al generale Claudio Graziano. Occasione per rendere omaggio ad una persona che nella sua lunga carriera ha rappresentato e dato onore ai nobili principi del Corpo degli Alpini. Custodi dell'indivisibile identità nazionale e dell'inviolabilità del suolo patrio, l'indissolubile legame tra la gente d'Abruzzo e il Corpo degli Alpini fa parte della storia. Il legame che si è venuto a creare con la popolazione aquilana in occasione del sisma del 2009 ha sancito in maniera definitiva un legame e una riconoscenza che si va rinsaldando sempre di più. Il generale Claudio Graziano è il presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, ma anche ufficiale generale degli Alpini più anziano in servizio. Io sono felice e onorato di essere oggi qua all'Aquila per ricevere questo riconoscimento. Rinascita è anche un termine simbolico. Poi è strano perché tutte le cose assumono dei simbolismi particolari in relazione alla casualità delle cose. Questo premio probabilmente l'avevamo pensato prima, era stato pensato prima che ci fosse la guerra in Ucraina, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando sono continuate purtroppo gli eventi tradici che hanno colpito l'Abruzzo dopo il 2009 fino alla grande emergenza neve del 2017 in cui c'è stato un intervento forte di tutte le forze armate, dell'Esercito in particolare degli Alpini e dopo 77 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la guerra in Europa, con la guerra contro l'Europa, con una guerra che è lontana ma non è così lontana o che quantomeno non è mai stata così vicina all'Europa e così pericolosa per l'Europa. Il 24 febbraio del 2022 effettivamente è stato come svegliarsi dalla pace della Belle Epoque e trovarsi nelle trincee della Prima Guerra Mondiale.